Salve a tutti. In questa lezione leggeremo e commenteremo Sono una creatura di Giuseppe Ungaretti. È una poesia scritta il 5 agosto 1916 a Cima 4, postazione sul Monte San Michele, che fu teatro di sanguinose battaglie tra l'esercito italiano e quello austro-ungarico. Il tema è la sofferenza che si prova in guerra. Leggiamo prima il testo. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. Facciamo la parafrasi. Il mio pianto è come questa pietra del Monte San Michele, una pietra così dura, così prosciugata, arida, così refrattaria, cioè così insensibile, impenetrabile, così completamente priva di vita e di sensibilità disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede all'esterno. La morte si sconda vivendo. I temi di questa poesia. Cominciamo dal titolo, che come sempre, nell'Allegria, fa parte integrante del testo. Il poeta dice, sono una creatura. E in questo modo possiamo dire che il titolo è un grido disperato. Il grido di chi vuole rivendicare la propria umanità. Un'umanità negata dalla guerra. Guerra che fa diventare l'uomo duro, arido, privo di vita e di anima. E il tema principale è proprio questa similitudine pianto-pietra. La pietra è quella del paesaggio del Carso, un paesaggio brullo, desolato, che prosciuga ogni forma d'acqua. Nella similitudine la pietra è il secondo termine del paragone. Perché dice come questa pietra è il mio pianto. La pietra della quale si evidenziano tutte le caratteristiche. Si dice che è fredda, dura, prosciugata, refrattaria, disanimata. Mentre solo in questa seconda strofa viene introdotto il primo termine del paragone, cioè il pianto, come questa pietra è il mio pianto che non si vede. Il pianto, come la pietra, è disseccato e non può sciogliersi in lacrime perché la guerra, che nega ogni forma di umanità e di vita, ha trasformato questo pianto in una materia fredda e senza anima. Terza strofa. La morte si sconda vivendo. È quasi una sendenza di carattere morale, o un aforisma, se volete. Il poeta conclude quindi questo testo dicendo è che la morte si sconda vivendo. Che possiamo interpretare in questo modo? La morte, che in quella realtà della guerra diventa quasi un sollievo, una liberazione, nel senso che porta molti soldati a desiderare la morte, dico la guerra, porta molti soldati a desiderare la morte piuttosto che vivere in quelle condizioni. La morte, dicevo, diventa qui un privilegio, a cui si accede però pagando un prezzo. Qual è il prezzo? Vivere in quel dolore. In questo caso sembra riferirsi al rimpianto e al senso di colpa di chi vive, nei confronti invece di chi è morto. La colpa, cioè, di essere rimasto in vita al posto di chi non ce l'ha fatta. E passiamo adesso agli aspetti formali. Dunque, nella guerra l'uomo è posto di fronte a situazioni, esigenze e sentimenti drammaticamente elementari. E perciò sente la presenza costante della morte. Una condizione esistenziale così scarnificata, essenziale come le pietre del Carso, non potrebbe trovare espressione che in una lingua altrettanto essenziale e in una metrica frantumata fatta di versicoli che spesso coincidono con una sola parola spoglia e nuda. Come nudo si scopre l'uomo nel dolore della guerra. Mentre si muore in dringea senza lasciare traccia, Ungaretti non può indugiare nella descrizione delle cose, inserendo aggettivi per esempio, ma cerca di semplificare al massimo, ricercando le parole essenziali, riducendo il discorso quasi fino alla soglia del silenzio. È un'esigenza di carattere morale innanzitutto. La poesia è composta da tre strofe, diversi liberi, versi brevi ma molto densi espressivamente e sembrano esprimere i moti di un animo lacerato dal dolore. La sintassi poi comunica un senso di frammentarietà e di ossessività. Gli aggettivi e i participi della prima strofa, così fredda, dura, prosciugata, refrattaria e totalmente disanimata, si susseguono come versicoli scanditi dall'anafora, così, in un crescendo proprio del tono della voce. Infine, i versi diventano sempre più brevi. Dal primo che, se vediamo la poesia, sembra quasi un imbuto, quasi a sottolineare che questo dolore tente alla fine al silenzio. La pietrificazione del poeta e del paesaggio è resa attraverso un periodo in cui sono quasi assenti i verbi che generalmente indicano movimento. Qui c'è un solo verbo. E Nella prima parte, questo verbo essere, che indica però immobilità. Infatti, l'atmosfera sembra irreale, immobile, statica, e il poeta si sente egli stesso, immobile, incapace persino di piangere, come pietrificato. e il poeta si sente che in un poeta si sente che in un poeta si sente